Vieni caro, sempre con le rose. Sono andata un po' lunga con Davide di Razzaro, ma tu che ami il talento, il fascino delle donne, avrai capito. Ciao Marco. Volevo darti questi fiori. Ma che carino. Uno è rosso per la passione che tu ispiri e uno è bianca per la trasparenza con cui lavori. Che bravo. E' andata benissimo, ma io sono incantata. Ciao, buongiorno. Accomodati. Un uomo di un'eleganza. L'ultima volta che sei venuto ci hai raccontato praticamente un pezzo di dolce vita italiana. Come ben sai sei entrato con Gabriella Ferri perché la passione è la trasparenza. Sai che è la seconda volta che ci vediamo poi. Sì, però... Sei un po' psicologo? No, ma mi fai simpatia. Ah, meno male, quindi solo con me. Il regista è psicologo. Sai perché? Perché io in realtà sprovo sempre un grande imbarazzo sui complimenti. Perché penso sempre di non meritarli. Per cui per questo non riesco a tenere bene l'era. Capito? Mi agito. Che ricordo hai di Gabriella Ferri? Che è la canzone con la quale hai scelto di entrare. Gabriella noi la conoscemmo quando aprimmo il bagaglino, e cioè nel lontano 1965. Ci riunimmo alcuni giornalisti, eccetera. E trovammo una cantina a vicolo della Campanella nella vecchia Roma. E pensammo di fare due tempi di uno spettacolo nuovo che potesse in qualche maniera essere... E cercavamo dei cantanti un pochino fuori dall'ordinario. E chi fu? Toni Cucchiara, che era un cantante siciliano molto bravo, che tu l'hai conosciuto. Come no? Grande autore anche. E nell'Iffio Ramonti ci chiamarono e ci dissero noi abbiamo qui Gabriella Ferri, che è una cantante romana, che aveva fatto insieme a Luisa De Santis una piccola trasmissione con Mike Bongiungi. Tu dici che era una diva del popolo, cioè coniugava quest'elemento da diva... Infatti comunque il portamento, il viso, il carisma assoluto, no? Assoluto, certo. Però popolo? No, veniva dal popolo, aveva la forza della popolana vera e nello stesso tempo, come dote sua, aveva questa importanza, questa dignità, questo guardarti in maniera tale che ti seduceva. La guardiamo insieme. Tu sei una male femmina Che sto anche a farti chiamare L'agrame a un po' metà Ma non lo vedi sì quanto Quanto sei tappo Tu madre non ci sei spregata troppo Mi pari in ambulanza quando so Ma sotto la luna Non canti più Gli stornelli Le serenate Di gioventù Per progresso Da fatto grande Ma sta città Non è quella Do se viveva Tant'anni fa Anche tu così presente Così solo nella mia mente Tu che sempre mi amerai Tu che giuri e giuro anch'io Anche tu amore mio Così certo e così bello Anche tu diventerai Come un vecchio ritornello Che nessuno canta più Nella storia del bagaglino A un certo punto Arriva una telefonata di Cossiga Per Maglio Dovi Che lo imitava Perché poi nel frattempo Arriva la televisione Arriva la Rai Arriva Mediaset E ci ha parlato lui A chi hai risposto? No In realtà no Fumo richiesti Di mandare Maglio Dovi Che era un imitatore Formidabile di Cossiga Al Quirinale Perché Cossiga Non poteva venire Al Salone Margherita Ovviamente Presidente della Repubblica E allora però Voleva vedere Questo giovane attore Che lo imitava così bene E lo chiamò Al Quirinale Adesso continua tu Sì Era un presidente Che aveva una forte carica Proprio autoironica Quindi era il periodo Un uomo di grandissima intelligenza Che chiunque l'ha conosciuto Lo sa Io l'ho conosciuto Era numero uno Con una grande testa Con una grande energia Poi picconava Quindi c'era il periodo Anche poi c'era il CSM Così così Io ti voglio conoscerlo Perché questa voce Quanto mi ha studiato Mi deve dire Quanto mi ha studiato Io ho detto Presidente Io non avevo mai studiato Anche a scuola C'era una pigrizia Lo dice Pingitore Quindi io improvvisamente Quando io faccio un'imitazione Proprio per la simpatia E la forza del personaggio Mi ha fatto pure il tic Mi sono un po' così È vero Che quando si nervosiva Che c'era il tonno Palamara E lui giocava Questo che si chiama Come il tonno E faceva queste battute Quindi si prestava Che all'epoca era N.M. Palamara Esatto Probabilmente Esatto E allora faceva E poi mi disse Tu devi mettere Le cravate Caleffi Cioè mi diede Proprio le sue cravate E io recitai Con queste cravate Sue per pretendere Non male Come è stato Entrare al Quirinale Emozionante Sì Devo dire Che io nella mia vita Non è che Fortemente le emozioni Come quando anche Vai in uno studio È stato emozionante Importante Una bellissima esperienza Per il Corriere della Sera Scrisse due cossiga Al Quirinale Ma io mi vivo tutto sempre Non dico con il freno Però sempre con un equilibrio Non c'è così Cioè me la godo Ma dico sempre I piedi per terra Non so perché Per un fatto di educazione Di indole Non lo so Lui fa il caldo d'Inghilterra Pure molto bene Lui fa il caldo d'Inghilterra Puoi accennarlo per esempio Tipo jukebox oggi Tipo jukebox Perché adesso sono diventato re Oggi vorrebbe la musica Se vuoi fare No Dan dan Pomp e z Pomp e z Non c'è una parola in inglese Non vi sforzate Non mi è mai interessato A me piacciono le donne E i cavalli Camilla le riassume Tutte e due Scherzo E' una battuta Che noi facciamo Of the prayer E questa era cara Prima che diventassi re Prima che diventassi re Adesso lo vediamo Peraltro Carlo Carlo ci ha salutato in diretta Quindi magari un giorno Che ne sai Se vuoi ti faccio anche il dialogo Fra Camilla e Carlo E qual è il dialogo fra Camilla? Carlo Non ti preoccupare No Manteniamo il re uno Perché non mi guardo mai? Preferisco vivere Perché non mi ascolti? Non lo so Eppure sono tutti ricchi Della nascita Bene? Vediamo l'evitazione Una figura da disgraziato Una figura Perché vedi Che danno mio E' che io sono concorrente Sono concorrente Fossi con le batterie Andrea Maldi Sono concorrente Dopo tre minuti Pippo Toglio la spina Io resto senza corrente Non dico più niente Davanti alla gente Che logicamente Penso che io sia un deficiente Cosa è successo? E io sto cercando Renato Pozzetto Ma io lo cerchi a trent'anni nella nostra storia? E dove lo cerco? Posso chiamarlo in diretta? Se vuoi Renato! Uè Pozzetto se ci sei Uè Cosa gridi? Sono qua Se mi hai chiamato Eccomi qua Ve l'introvviso E qualcosa di... Uè Uè non sento qualcosa Cosa? Qualcosa nell'aria Qualcosa nell'aria Veramente non sento niente Non lo so Come se fosse Un elicottero Uè non sento niente Faccio ascriversi Che io Sto cercando Chi ti soccidico Che non vado Di amore Per me 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 Va bene Un po' di Amarcord Cosa? Poi ovviamente Lì Il bagaglino Aveva tanta satira politica Una satira anche un po' Accomodante Qualcuno diceva Che era troppo Accomodante Sì Non so La satira scomodante Come dovrebbe essere Perché La satira Sai Risponde Al criterio Di Orazio Dire La verità Castigat Ridendo Mores Sì Dire la verità Ridendo Lui dice E allora Due sono gli elementi Dire la verità Non mentire E Ridere Saper far ridere Ora Prego No no Vai vai Per finire No no Ora Io mi sono sempre attenuto Un po' a questo criterio Cioè Non ho mai offeso nessuno Non ho mai Fatto degli insulti Perché non credo che sia Una satira quella Però siamo andati Anche in profondità Abbiamo fatto La satire Di tanti uomini politici Di Di De Mita Per esempio Con Mario Zamma Che era formidabile Di Craxi Con una I nostri 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 Venivano affidate O a Sosia Veri e propri Come Come era quello Di Craxi Che i carabinieri Salutavano per strada Eccetera Occhetto Mi ricordo Che era un collega Giornalista Occhetto Era un carissimo mio amico Aldo De Luca Il quale è giornalista Al messaggero E un giorno Una ragazza Mi disse Sai ti ho visto ieri Non ti ho voluto disturbare Perché stavi con Occhetto Invece io stavo con De Luca Allora Avebbero messo La patina E gli ho fatto fare Però non poteva parlare Perché non era un attore Allora lo faceva entrare Con l'unità sotto il braccio E con un'aria molto seria Così E la gente gli parlava E lui non rispondeva E gli spettatori Immaginavano Chissà che cosa Che questo significasse Non significava niente Perché lui non poteva parlare Perché nelle tecniche televisive C'è questo ed altro E poi c'è ovviamente Quella storica Di Onesti Lionello e Andreotti Fu forse la prima volta Che era presente nel consiglio Ora la vediamo Che è da nuova Biberon 87-90 Mi prendo in giro da solo Visto che non ci riescono gli altri Che ci provino è vero Ma però guardi Prendersi un po' in giro da solo Fa molto bene Per non montarsi la testa Per non darsi delle arie E per non credersi veramente Un uomo superiore Io mi diverto tanto A non credermi a un uomo superiore Perché non lo sono Fra parentesi Quindi Ma Però se mi guardo in giro Non ne vedo tanto Non parliamo dei segreti Del mio successo Sarebbe meglio parlare Del successo Del mio successo Del mio successo Una cosa che non mi piace Quando uno dice Che uno ha gli scheletri Degli armadi Insomma Io per la verità Ho avuto molte vocazioni Overe molte aspirazioni Ce l'ho ancora Ma di fare l'impresario Di bompe furbi Non ce l'ho Va bene L'autoironia di Andreotti E l'ironia di Andreotti È leggendaria Su che cosa giocavate Come fu quell'incontro Reste un grandissimo peraltro No Noi avevamo una signora Che aveva uno strano cappellino Che si vede ogni tanto Che ci rimodiava Non ho mai capito come Dei deputati Senatori Ministri Eccetera Che venivano lì Assistevano allo spettacolo E poi dovevano dimostrare Di essere uomini di spirito Alcuni provarono a raccontare Delle barzellette Che noi stessi Gli avevamo raccontato Con un esito Terrificante Altri invece Erano Normalmente Erano autori Diciamo Erano propriamente Spiritosi Così come era Andreotti Insomma Era un nuovo intelligente E Oreste è un grandissimo attore L'abbiamo ricordato Qui con la figlia Perché Doppiatore La voce di Woody Allen Oreste Era una bellissima persona Oreste era una splendida persona Con un talento enorme Giorgio Albertazzi diceva che lui era il miglior attore italiano Tu l'hai conosciuto Io ho avuto l'onore Il piacere Io ho tutto quello che so fare Se so fare qualcosa Lo devo a questo regista Che è stato anche psicologo Quindi dal punto di vista Anche caratteriale Ti forgiano E Oreste Lionello E Oreste Lionello Mi ha insegnato tutto Anche mi ha rimproverato Con questa voce Quando incontrò mio padre Gli disse Siccome gli ero Oddio mi sembra la voce di Woody Allen Poi la sentiva Io lo facevo benissimo In effetti Oreste Lionello Disse a mio padre Come l'ha educato Questo suo figlio E mio padre rispose Secondo il principio della libertà E allora lui era così Lui amava questa sintesi E tutte le persone che mi coprivano Vedi non ho fatto uno studio particolare È una coincidenza Quindi questa grande ammirazione Il tempo che passavo Anche con Oreste Anche dopo Oltre Quindi è proprio Ho avuto dei maestri La fortuna Credo che il talento Si è affrontato anche Si è affrontato il discorso Qui ci sono dei talenti È la cosa più importante della vita Di incontri Sì Perché tu impari Tutto quello che sei Dipende dalle persone che incontri nella vita Non so quale grande lo diceva Esatto E non solo sul palcoscenico E io ho avuto la fortuna di incontrare Questi affetti stabili Tra cui Carnoletta Dai Quiz Sono in ritardo Francesco Pincitore E c'era anche Maglio Duvi Però io oggi Volevo anche Ribadire un attimo Serena Naturalmente Qui chi è il vero titolare dei quiz Perché guarda un po' Marco cos'ha dietro la maglietta Marco Girati un secondo Guarda un po' Guarda un po' Guarda un po' Guarda un po' Pincitore Maestro quando io non ci sono Qui viene un po' Improvvisato Un quiz Con un tablet Mi sono giunte voci Allora io voglio ribadire Chi è il titolare Vero Stiamo facendo i gadget Abbiamo il furgone Il merchandise Luigi Marco Sedetevi con me Perché devo lanciare la domanda In chiusura Di stagione Me li dicono Gli affetti stabili È finita Scusami Ancora la tutta Io ho i miei due grandi Unici collaboratori Senza quali Non potrei fare il quiz Fanno solo questo Portano Esatto E poi vanno a dormire È già qualcosa Però Te che fai Io che faccio Almeno una cosa pratica Scriviamoci Che siamo in ritardo Lanciamo la domanda Dediciamo il programma Dediciamo il quiz A Biberon Che è stato uno Di grandi vostri successi La parola di oggi Quindi è Biberon Andiamo nell'antica Grecia Dove il Biberon Aveva molto spesso Anche un'altra funzione Quale Era anche Allo stesso tempo Giocattolo Mattarello Arma di difesa O unità di misura Pubblicità Ma rispondono loro? Beh Ma di me Ci scrive Carlo I tasti del suo vecchio telefono Sono piccoli E non riesce a scrivere messaggi Scegli Amico Smartphone Tasti grandi e parlanti Schermo enorme Compralo subito Brondi Chi parla? Per il tuo benessere I love kefir di Sveltesse Con fermenti lattici vivi Lieviti e veri grani di kefir Scopri la bontà della ricetta tradizionale I love myself I love kefir Continui fastidi alla schiena O al collo Sono spesso causati dai nervi Provate Mavosten Lo speciale complesso di micronutrienti Favorisce un sistema nervoso sano Mi sento di nuovo bene con Mavosten Mavosten In farmacia Sai Ultimamente ho un problema Cioè Non vanno così bene le cose a Ah Intendi nella tua vita intima Io prendo Neradin Per una vita attiva sotto le lenzuola Neradin Con zinco per il mantenimento di normali livelli di testosterone Specifico per gli uomini Solo da Lidl scopri le offerte per un mondo di divertimento per i tuoi piccoli Costruzioni Lego a 8,99 euro Pigiamo a corto per bambini a 12,99 euro Coordinato intimo per bambini a 5,99 euro Lidl, anch'io Ciao Marco Ciao Stai installando l'allarme Verisure Sì, così partiamo tranquilli, sai Con tutti i furti che ci sono durante le vacanze Bene, così l'allarme rileva l'intruso e noi interveniamo prima che provi ad entrare Lo sai che ti dico? Lo stanno anch'io Verisure, l'unico allarme con tecnologia PreSense Chiamalo 800-9494-9494 o vai su verisure.it Nuovo Will e Kate, ora è crisi nera Nuovo Segreti e milioni Il dopo Berlusconi Nuovo Gregoracci, cicogne in volo Nuovo Anna Tatangelo, che passione Nuovo Amori VIP, Laura Pausini, Manila Nazzaro, Mirta Merlino Nuovo, con Enigmistica Mia, Cairo Editore E con Inviaggio parti alla scoperta della Puglia più bella Dai ricercatori scientifici che hanno brevettato Nivea Luminos Il siero antimacchie numero uno in Europa Che riduce le macchie del 71% dopo 12 settimane Arriva alla routine completa Siero, crema giorno e crema notte Che radduppia l'efficacia antimacchie Unisciti al milione di donne che già usa Nivea Luminos antimacchie Per una pelle più uniforme Diarrea, dolori addominali o flatulenza Può essere il colon irritabile Una delle possibili cause Le microlesioni intestinali Un rimedio è Kigimea Pro Kigimea Pro aderisce alla barriera intestinale come un cerotto Kigimea Pro, effetto cerotto per l'intestino Chiara è preoccupata? Perché gli smartphone di oggi sono troppo complicati Scegli Amico Smartphone Facilissimo da usare Apri la scatola e Brondi lo programma per te Compralo subito! Brondi, chi parla? Cremoso yogurt più biscottini al cioccolato Oh my yomo Yogurt alla fragola più mandorle caramellate Cremoso yogurt più croccanti buffer al cioccolato Oh my yomo È buono È yomo Ottimo pranzo, ma che piatti sporchi E allora c'è Bril Così pratico, così efficace Bril Excellence Cups è il numero uno contro il grasso ostinato Per una pulizia e brillantezza eccezionali Il numero uno per me contro il grasso ostinato Bril Excellence Cups Quando la pausa chiama Rispondi con il gusto fresco di Kinder Pinguì Goditi il tuo momento Con la sua croccante copertura di cioccolato fondente e fresca crema al latte Kinder Pinguì ci piace così Mec Andrea Le star della musica Le canzoni dell'estate Stanno tornando Roma Piazza del popolo Team Summer Team Summer Andrea De Logu e Neck conducono Team Summer Hits Domenica alle 21 su Rai 2, Rai Play e Rai Radio 2 Fane un'altra, eh, fane un'altra Team, la forza delle connessioni Torna, storie della TV Sei nuovi appuntamenti Trapani era l'anarchia Non sapevi mai quello che poteva venire fuori Dedicati ai grandi La risata di Fabrizio Era un suo modo di essere Del piccolo schermo Lele Luttazzi è stato un artista Un grandissimo presentatore Con Aldo Grasso La storia della televisione Attraverso i suoi temi I suoi generi I suoi personaggi Storia della TV Da venerdì 21 e 20 Rai Storia Quest'estate vi porto con me per vivere assieme La più bella delle avventure Quella nel mondo della conoscenza Dalla terra allo spazio Attraverso le meraviglie della natura Le sorprese della mente E le scoperte che ci hanno cambiato la vita Partiremo da questo studio Con un programma tutto nuovo Che ha un nome familiare Che viene da lontano Con Alberto Angela Noos Da giovedì 29 giugno Alle 21 e 25 Su Rai 1 Carlo Conti conduce Tali e quale Domani alle 21 e 30 Su Rai 1 Velocissima risposta del quiz Rapidissima Lo chiediamo secco Alla mamma bionda Che è alla mia destra Laura Freddi Dovresti saperlo Nell'antica Grecia Sicuramente non c'eri Però il biberon c'era E aveva anche un'altra funzione Giocattolo Mattarello Arma di difesa O unità di misura Ti do anche un aiuto Si chiamava Guttus Tintinabula Allora Adesso tutto mi torna in mente Vedi Avendo avuto appunto Avendo una bimba A 5 anni Quindi il biberon Non lo ricordo tanto bene Però Lei ci giocava Io non so Nell'era moderna È così Ci si gioca col biberon Non so Gli antichi greci Cosa facessero I bambini sono gli stessi Da sempre Non cambiano Bravissima Era un giocattolo Era praticamente Un biberon In terracotta All'interno Aveva dei dischetti Che quando il latte Veniva succaro dal bambino Restavano all'interno E il bambino Lo agitava Lo usava come sonaglio Quindi un biberon Giocato Cuore di mamma Indovinato Eccoci Poi sanno Che Pingitore Ha Diretto Fabrizi Ha Diciamo È stato Autore Anche regista Forse anche Di Panariello Che vediamo insieme Adesso Stasera mi butto Ecco quindi Un tamburo Battente Per il quarto Concorrente Eccolo qua Dicci come ti chiami Mi chiamo Giorgio Panariello Signori Corrado Buonasera Corrado Venga Non si preoccupi Gli fanno l'applauso Non si preoccupi Venga Corrado E allora signori Signori Buonasera A tutti Grazie Grazie Troppo buoni E troppo E Troppo buoni E Troppo gentili Ma adesso Non andate via Perché c'è la pubblicità Vecchia Diranno che sei vecchia Con tutta quella forza che c'è in te Vinse questo campionato Facendo le imitazioni Facendo le imitazioni Cioè era un campionato tra imitatori E lui vinse Questa era la seconda edizione E lui vinse questa seconda edizione Senti e fammi sognare Fabrizi invece Aldo Fabrizi? Sì Con Aldo Fabrizi Gli chiesse di fare una parte In un film Nerone Che era Un po' Un film nuovo Per quello che Che era la figura di Nerone E lui doveva fare Il generale Galba Che poi è successo a Nerone Io andai a casa sua Lui mi ricevette Nella cucina Lui viveva In una enorme cucina Dove c'era da una parte I fornelli E da una parte Un tavolo Macchina da scrivere Telefono Con una delle prime segreterie In cui diceva L'utente è assente Dica chi siete E in questa maniera Selezionava Quello a cui voleva rispondere E cominciammo a parlare Io gli lessi il copione Lui mi fece alcune osservazioni Poi da lì Nacque una certa Amicizia proprio Lui fece Questa parte Poi si interessava A quello che io facevo Mi chiamava a casa Parlava anche con mia madre Fu una cosa Molto 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 Commove Ma è vero che tornerà il bagaglino Il Rai Io leggo delle cose Io vorrei fare il bagaglione E che cosa cambia? Cambia tutto Nel senso che Mettete pure i ballerini maschi Belli Così siamo felici anche noi ragazzi Ma senz'altro Cara Se tu me ne vuoi indicare qualcuno Io Diciamo La considerazione Ma Scalun Sarà pronto? Scalun si propone Sì per il bagaglino sarò pronto A settembre Ci siamo Per il bagaglione Adesso vediamo un po' Dipende un po' Dalle gerarchie Della Rai Se vogliono accogliere Questa mia proposta Di uno spettacolo Che riecheggi un po' Quello che abbiamo fatto Che dia Una informativa Sotto la specie Del divertimento Degli anni Che sono passati Di Tangentopoli E che abbia Invece anche Una parte Attuale Contemporanea In cui Cercheremo di fare Le scarpe un pochino a tutti E come si dice In bocca al lupo no? Sempre in bocca al lupo Crepi lupo E come si risponde Crepi o viva? Crepi Io odio quelli che dicono viva No viva si risponde Ma che viva? Ma se viva Te si magna Scusa No perché si dice Che il lupo Prenda il cucciolo in bocca Per proteggerlo Questo se lo inventano Mamma mia Possibile per 3000 anni Si è detto Crepi E che adesso Abbiamo scoperto Che il lupo Prende il bambino Il cucciolo in bocca Per la volta Io risponderò sempre Crepi il lupo Vabbè Vabbè